Pronto Ornella? Ma deve essere caduta la linea. Ornella cara, sono una signora? Sì, buonasera. Senta, ho chiamato prima ma deve essere caduta la linea. Come ha riattaccato? Ma chi fa? Mi riattacca sul viso? Ma veramente lei è crudele, è orrenda. Ma sono da sola qui in casa, ho bisogno di consigli, di un aiuto. Le do anche uno stipendio, voglio dire. Ma non sia ridicolo Ornella, guadagna come un dirigente della posh, per cortesia, non si lamenta. Ecco. No, va bene, ho un nuovo problema, io non ho più niente di pulito. Guardi, no, mi sto mettendo i maglioni di mio marito, è tutto sgualcito, è tutto da assurare, un incubo. No, poi ho preso il libretto di istruzioni della lavatrice, è incredibile. Cioè, più facile guidare uno shuttle, ecco. Sì. No, 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 più niente, niente di niente. Guardi, sono puliti i visiti da sera, forse, nemmeno tutti. Ma come si mette a quelli? Ma è paziente? Eh, Ornella, ma pronto? Pronto? Ma vabbè, una faraputta, eh? Una faraputta vera, i visiti da sera. Francamente, l'Irene Galazin per andare a fare la spesa mi sembra troppo. Poi fa freddo. Prenderò una giacca. Armani e Irene Galazin. Come sta? Di merda sta. Va bene, andiamo. Sì. Sì. Tá viceversa. Sì. Grazie.